Presentiamo un nuovo modello di banca che deve stare molto più attenta al territorio, alle famiglie e imprese, una banca che ha come obiettivo quello di portare fiducia alla stessa clientela. Un modello in cui all'interno di una nuova filiale che deve essere un centro di ascolto, un centro di ascolto permanente, le professionalità dei lavoratori bancari devono essere in qualche modo valorizzate al servizio della clientela e dello stesso territorio.